Finalmente dopo due anni pandemici torna a pieno regime il festival. Quest'anno in Piazza Cavour e nelle altre arterie principali della nostra città torneranno le bande cittadine, le street band e le fanfare militari. La tradizione bandistica, da sempre vicina al popolo e animatrice di strade e piazze con contagiosa allegria, torna a essere protagonista nella settima edizione di Flattatum, il festival bandista della città di Bitonto, promosso dall'associazione musicale e culturale Davide delle Cese che si inserisce nell'ambito della rete dei festival. Una a tre giorni, dal 16 al 18 settembre, in cui l'onomatopea Flattatum farà rievocare a tutti battiti affidati al ritmo delle percussioni e respiri, vento, anima, degli strumenti a fiato. Si comincia nelle frazioni il 16 mattina con la bassa musica e l'armonia molfettese e poi si prosegue la sera col coro lirico e con l'orchestra di fiati Città di San Ferdinando. Il giorno successivo l'associazione musicale Millico di Terlizzi percorrerà le strade della nostra città e poi ci sarà in Piazza Cavour il concerto della fanfare dipartimentale della Marina Militare, Comando Taranto Sud. La chiusura domenica con la Birband Band, una street band di Ruvo di Puglia, ben affermata sul panorama non soltanto locale ma anche nazionale, e per finire il concerto della Controrchestra Big Band diretta dal sottoscritto. Un evento, dunque, ci torna a far vivere le piazze e le strade della città, con l'armonia e la tradizione della banda. Sono molto contento di questo appuntamento organizzato dall'associazione Davide delle Cese con Pinuccio e Vito Vittorio De Santis. È straordinario che si torni nelle piazze, è straordinario che si torni per le strade, è straordinario che si torni per le strade e per le piazze con le bande. È un momento che la comunità sente, è un momento di gioia, di festa. Noi abbiamo sempre detto che è necessario che si organizzino, si facciano degli eventi di prossimità. Questo del Flattatum è appunto la riprova della necessità di questi eventi. Quindi noi ci saremo, daremo tutto il supporto necessario perché gli eventi possano poi proseguire negli anni a venire. Divertiamoci nei prossimi giorni, questo è importante.